Il laboratorio di analisi del servizio idrico di Agrigento accreditato da Accredia. Due tavoli tecnici sul futuro del Mediterraneo, raccolta di fondi ad Agrigento in favore della ricerca, le curiosità di 7.000 bambini davanti al Papa, i premiati dell'edizione 2023 del premio Telamone, calcio e highlights di Licata Portici. Benvenuti su TVA Notizie. Dopo quelle negative che riguardano il servizio idrico di Agrigento, arriva una buona notizia per quanto riguarda il servizio. Il laboratorio di analisi di AICA è tra i pochi in Sicilia ad essere accreditato da Accredia. I dettagli con le interviste. Il laboratorio di AICA ormai rappresenta un'eccellenza, un punto di riferimento per la nostra azienda e di recente ha avuto un riconoscimento molto importante, l'accreditamento da parte di un ente particolarmente qualificato che è Accredia. E questo naturalmente ci rende orgogliosi del lavoro che è stato fatto in questi anni. L'obiettivo è quello di migliorare e di valorizzare ancora di più questo laboratorio attraverso le convenzioni con le università e soprattutto cercare di valorizzare al meglio creando maggiore valore aggiunto, dedicandoci anche alla possibilità di fare delle attività anche all'esterno e quindi producendo ricchezza per la nostra azienda. Quindi naturalmente una serie di attività che ci consentiranno ad esempio di fare delle analisi anche ai cittadini e perché no anche ad altre imprese che ne dovessero avere bisogno. Quindi il frutto di un grande lavoro, il riconoscimento per il lavoro in questi anni particolarmente duro, tutti sappiamo da dove siamo partiti e quindi tutto ciò ci rende particolarmente soddisfatti. AICA rappresenta da qualche tempo una delle società più importanti della provincia di Agrigento in quanto fra l'altro si occupa di un settore fondamentale qual è quella della distribuzione dell'acqua. E proprio per questo, a questo punto, abbiamo voluto, con molti sacrifici, ma ci tenevamo tantissimo, a accreditare il laboratorio che AICA ha presso il proprio interno, presso i propri uffici, perché dobbiamo assolutamente garantire una potabilità dell'acqua ai massimi livelli. E' per questo che abbiamo voluto percorrere tutte le strade che la normativa consente, per poter garantire, oltre che garantire, tranquillizzare tutti i nostri utenti sull'abbondà del prodotto che noi distribuiamo. E per questo noi ci siamo fatti accreditare proprio come laboratorio. Come diceva bene il Presidente, è solo il primo passo questo, perché noi abbiamo intenzione di fare un centro di ricerca, perché per noi è fondamentale garantire, come dicevo poc'anzi, tutti gli utenti. Allargheremo anche questo, e già vi devo dire che qualche ente importante si è rivolta a noi, per dare tranquillità, vedi per esempio i controlli che sono stati nel Lago Arancio, la Regione addirittura si è rivolta a noi perché eravamo l'unico ente nelle condizioni di garantire la bondà delle acque, perché i nostri quattro collaboratori che si occupano del laboratorio, con molti sacrifici, perché sono quattro sole persone e certamente potenzieremo nel più breve tempo possibile, riescono a svolgere un ruolo fondamentale di garanzia per tutti gli utenti. Un particolare ringraziamento e dubbiamente lo dobbiamo dare al dottore Vetro che è responsabile del laboratorio, perché senza di lui non avremmo potuto assolutamente portare avanti questo discorso. Un'altra cosa ancora che diciamo nei nostri programmi è quello di fornire la società laica di una certificazione di qualità anche per quanto riguarda tutti gli altri settori. Cerchiamo, nonostante i sacrifici, nonostante le problematiche, di fornire ai nostri cittadini un prodotto quanto più valido. Abbiamo iniziato col laboratorio che abbiamo ritenuto che era la cosa più importante per il prodotto che forniamo, continueremo con l'organizzazione della società, ivi compresa la certificazione di qualità. Questa mattina ci troviamo presso il laboratorio di analisi di AICA, che tra le tante criticità ed emergenze invece questo rappresenta un segmento di grande positività e davvero un'ottima realtà della nostra azienda. Il laboratorio AICA, che magari molti non conoscono, è quello che consente la tranquillità di una fruibilità delle acque potabili per ogni famiglia delle nostre comunità. Quindi sui 34 comuni che sono soci di AICA, che operano nel servizio idrico integrato, tutte le acque passano da questo laboratorio che per noi è un punto di eccellenza. Devo dire che ci lavorano quattro validissimi professionisti che con grande scrupolo e con grande coscienza fanno un lavoro magari lontano dai riflettori. Oggi abbiamo invece voluto portarlo alla conoscenza di tutta la comunità agrigentina. C'è con me il dottore Lopresti e altri suoi collaboratori che si preoccupano di una verifica costante per la salute dei cittadini della provincia di Agrigento. È un laboratorio che di recente ha anche avuto dei riconoscimenti prestigiosi da parte degli organismi nazionali. Infatti la Credia, che è un organismo per chi ci lavora, è la massima espressione della funzionalità di un organismo. ha conferito a questo laboratorio un riconoscimento che in ben pochi anni hanno in Sicilia, che determina la qualità del servizio prestato e la professionalità mostrata dai nostri collaboratori. Tutto questo quindi all'interno di una esperienza come quella dell'azienda idrica dei comuni agrigentini che tra tante difficoltà riesce anche ad avere queste positività. Noi siamo orgogliosi di questo. Finora abbiamo fatto analisi delle acque reflue e dei controlli sulla potabilità, ma anche nella logica di una programmazione c'è la volontà di allargare la sfera di azione di questo laboratorio visto le eccellenze, visto le professionalità che abbiamo al nostro interno. Vorremmo anche iniziare ad aprire un rapporto con i soggetti, con i singoli cittadini per una verifica della qualità delle acque che quotidianamente possono entrare nelle loro abitazioni. Parlo di impianti che derivano acqua che deriva dai pozzi, acqua con la quale si riempiono grossi invasi vicino ad aziende agricole. Ecco, tutto questo refluisce sulla salute quotidiana dei nostri cittadini. Quindi è per noi motivo di grande soddisfazione poter disporre di questo laboratorio. Un ultimo, sempre in base di programmazione, è che noi vorremmo iniziare con questo laboratorio salire e alzare l'asticella, salire un gradino e farlo diventare un centro di ricerca che vorremmo aprire sia all'Università di Agrigento, sia soprattutto anche alle scuole, per iniziare a essere un punto di riferimento aperto di carattere scientifico, di alto livello scientifico, che può essere fruibile anche per i singoli studenti della nostra provincia. Mediterraneo, strategie per un futuro condiviso. Due tavoli tecnici di Confcommercio. Arturo Cantella. La collocazione mediterranea diventi punto di forza dell'identità regionale siciliana. Questo è il tema forte che è sviluppato ieri e l'altro ieri al Verdura Resorti di Sciacca in occasione della terza conferenza di sistema regionale di Confcommercio Sicilia. Dopo Marsale e Siracusa, la scelta è caduta sul centro agrigentino, il cui territorio è in grande fermento. Dopo il riconoscimento di Capitale della Cultura per l'anno 2025, la conferenza regionale ricalca l'impronta dell'appuntamento nazionale avvenuto l'olfine settembre in Sardegna e assume per Confcommercio Sicilia un significato preponderante. Le articolazioni del sistema si confronteranno per tracciare il bilancio del lavoro svolto, con particolare riferimento agli aspetti alla ripartenza dopo gli anni pesanti della pandemia e a tutto ciò che invece dovrà essere effettuato nei mesi a venire per quanto riguarda il sostegno alle imprese toccate duro dagli effetti di quella che Confcommercio definisce ormai uno stato di crisi permanente che vede rincorsersi emergenza su emergenza. Direi che tra l'altro è un segnale tangibile e concreto che Confcommercio Sicilia ha voluto dare al nostro territorio, alla provincia d'Agrigento, anche in funzione di quello che avverrà con l'Agrigento Capitale della Cultura 2025. Cominciamo a marcare il territorio e anche a proporre una serie di iniziative importanti che riguardano il nostro comparto. Naturalmente sarà l'occasione per poter fare un po' il punto su tutto quello che è il nostro comparto, il comparto allargato alle imprese in generale, Confcommercio oggi è davvero capace di poter rappresentare un ampio raggio di tutte quelle che sono le attività produttive, dalla produzione ai servizi, dal retail al turismo, sono tutte cose che assieme formano davvero una proposta che vogliamo dare al meglio. Analizzeremo quelle che sono le criticità da un lato e quelle che sono le buone pratiche dall'altro per cercare di avere un indirizzo comune e guardare con un migliore ottimismo quello che rappresentiamo e quello che rappresenterà il nostro territorio è la provincia d'Agrigento in particolare in questo caso che si pone come luogo di incontro tra istituzioni di politica e corpo intermedio. Dicevamo la Sicilia al centro del Mediterraneo, in che modo Confcommercio può contribuire perché questo avvenga? Sicuramente può dare un contributo importante, lo sta già facendo anche attraverso una serie di protocolli e di accordi che vengono sottoscritti, uno tra tutti, tra gli ultimi è quello con la Fondazione del Turismo Maltese che ha all'interno del proprio organismo una serie di stakeholder importanti, ma soprattutto anche di rappresentanza dell'area mediterranea, Confcommercio Sicilia ha seglato un accordo, è stato presentato anche in quel di Roma per avviare e intensificare quelli che sono gli scambi commerciali fondamentali anche con questa parte del Mediterraneo, con Malta in particolare e soprattutto vogliamo focalizzare il fatto che essendo in una posizione strategica per il Mediterraneo quale migliore occasione per poter incentrare all'interno della nostra regione tutta una serie di condizioni che possono essere da pungolo e da, diciamo, light modif per poter avere quello che la nostra terra si merita, cioè uno sviluppo commerciale e imprenditoriale di alto livello. Che comunque è un'attività Agrigento 2025 che ha dato grande enfasi a quello che è il territorio di Agrigento, ha dato grande pubblicità e quindi Confcommercio regionale ha scelto anche la nostra provincia proprio per fare il punto della situazione su tutto quello che sono le attività del commercio, del turismo e dei servizi, quindi la missione di Confcommercio in questo luogo stupendo che è Verdura Resort. Agrigento 2025 che non è un inizio, non è un traguardo ma è anzi al contrario un punto, una sorta di stella cometa che serve un po' a tutti gli operatori per cercare di comprendere effettivamente le grandi potenzialità che ha questa provincia, la provincia di Agrigento soprattutto sul turismo e metterla in pratica così come abbiamo sempre detto ma che difficilmente abbiamo portato a terra. Intanto la grande attesa e poi il grande risultato che proprio Roccoforte Hotel che ha una struttura in provincia di Agrigento è entrata a tutti gli effetti all'interno di Federalberghi, quindi c'è tante carne al fuoco su questo ambito, non soltanto da un punto di vista alberghiero ma anche extra alberghiero perché ci dobbiamo far trovare pronti per questo grandissimo appuntamento che appunto è il 2025 con servizi assolutamente di qualità. Sì senza dubbio, noi siamo alla terza esperienza, abbiamo già fatto un'esperienza a Marsala, poi abbiamo fatto la seconda a Siracusa, oggi ci troviamo a Sciacca. C'è un motivo perché siamo anche in procinto di iniziare i lavori per la città della cultura che sarà in questo territorio e quindi gradivamo dare un segnale forte alla Sicilia a essere qui presenti nella provincia di Agrigento. La nostra conferenza ha due momenti particolari, uno è un momento tecnico dedicato ai direttori, dedicato ai dipendenti dove faremo il focus sul rinnovo del contratto collettivo di lavoro, andremo a parlare di internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese. Raccolta di fondi in favore della fondazione AIRC ad Agrigento, giovedì 9 e sabato 11 novembre. Le contraddizioni sul Leonardo Sciaccia, un interessante convegno che si terrà prossimamente a Favara. Ne parliamo con il professor Renzo Di Natali che ne cura l'intera organizzazione. Prima del Covid, a Canicati, presso l'Istituto Tecnico Galilei, abbiamo come rivista di letteratura e teologia organizzato un convegno sulla contraddizione nelle opere di Leonardo Sciaccia. Leonardo Sciaccia aveva detto un motto, ho contraddetto e mi sono contraddetto. Non è una contraddizione che riguarda la persona di Leonardo Sciaccia, ma è un motto che riguarda i personaggi presenti nelle opere di Leonardo Sciaccia. Come rivista di letteratura e teologia, noi per la prima volta abbiamo voluto indagare il tema della contraddizione proprio nei personaggi letterari creati da Leonardo Sciaccia. E ci siamo accorti con vera meraviglia che l'ingiustizia sociale combattuta da Leonardo Sciaccia ha un'origine nell'uomo, cioè nella condizione umana, nella contraddizione di ogni singolo uomo. Per cui con questo convegno studi noi abbiamo voluto offrire alla critica letteraria un tassello in più per conoscere Leonardo Sciaccia. E cioè non basta soltanto studiare Leonardo Sciaccia attraverso la prospettiva sociologica. Occorre un'altra prospettiva che è fondamentale, quella antropologica. Se si compiono le ingiustizie nella società, se nella società ci sono le ingiustizie combattute da Leonardo Sciaccia, l'origine, la radice è appunto antropologica. L'uomo è un essere contraddittorio e più in alto è e si va, più alta è la responsabilità di questo uomo, più lui è contraddittorio nelle sue scelte. Noi presenteremo gli atti di questo interessante convegno proprio al castello chiaramontano di Favara giovedì 9 novembre e tra i relatori abbiamo il critico letterario Calogero Sorce che ha lavorato molto sulla contraddizione nelle opere di Leonardo Sciaccia. La contraddizione come condizione umana è questo il tema di un convegno che si terrà giovedì a Favara al castello di Caramonte. Arturo Cantella ha intervistato Enzo Di Natali. Tante le iniziative organizzate dall'associazione AIRC di Agrigento sulla prevenzione, la diagnosi e la cura del clango e ribadire i valori della ricerca come strumento indispensabile per sconfiggerlo. La ricerca di ieri è la cura di oggi, la ricerca di oggi sarà la cura di domani. Tutte le iniziative promuovono e concorrono alla raccolta di fondi che servono al potenziamento della ricerca, i quali insieme alla prevenzione e ai corretti stili di vita riusciranno a sconfiggere il cancro, rendendolo sempre più curabile. In questi giorni, fino al prossimo 17 novembre, tante sono le iniziative a livello nazionale e locale e regionale, tra cui la cerimonia al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, l'incontro con la ricerca in 90 scuole, un gol per la ricerca negli stadi, i cioccolatini sulla ricerca nelle piazze. Altresì si realizzeranno in tutte tali, accompagnati da una straordinaria campagna di informazione che vede tutte le testate nazionali, private, giornalistiche, web e social impegnate a raccontare i progressi della ricerca, le sfide del futuro. Ad Agrigento, in particolare, il prossimo 9 novembre, alle ore 11, presso i locali della scuola Sciascia, le incaricate dottoressa Cristina Quiline e Maria Speciale, ricercatrici dell'ARC, incontreranno gli studenti delle quarte classi per parlare della ricerca, delle loro esperienze sul campo e avvicinare i giovani al mondo della scienza, illustrando le nuove frontiere nella ricerca sul cancro. Diversi anche presenti i volontari dell'ARC di Agrigento. Il prossimo giorno 11 novembre, sempre i volontari dell'ARC, saranno in piazza Ugo Lamalfa, dalle nove in voi, per offrire i cioccolatini della ricerca in cambio di un piccolo contributo economico, il cui incasso sarà totalmente devoluto all'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, per il potenziamento della ricerca stessa. In piazza Ugo Lamalfa, presso il mercato con diretti di Agrigento e a Villa Bonfiglio, presso il mercato verde, amico di Agrigento. L'incontro di Papa Francesco con 7.000 bambini provenienti da 84 paesi. Il racconto dell'evento con Lello Casesa. Papa Francesco ha incontrato ieri 7.000 bambini riuniti nell'aula Paolo VI, provenienti da 84 paesi del mondo, in occasione della manifestazione patrocinata dal Di Castero per la cultura e l'educazione, sul tema Impariamo dai bambini e dalle bambine. Una iniziativa organizzata in sinergia con la comunità di Sant'Egidio, la cooperativa Auxilium, la fondazione Perugia Sisi e Trenitalia. E così il discorso preparato dal Santo Padre ad un certo punto viene accantonato per lasciare spazio alle curiosità dei piccoli protagonisti. Domande e curiosità dei piccoli al Santo Padre su come organizza la giornata, l'ambiente, la pace e la povertà nel mondo. La loro è un'età meravigliosa, ha detto Papa Francesco, un'età da cui si può e si deve imparare, soprattutto ad essere messaggeri di pace, a tendere la mano in segno di amicizia, ad essere fratelli non nemici. I bambini infatti ricordano come bella la vita nella sua semplicità, che la vita è un dono, che Dio ci ama, che siamo tutti fratelli. I più piccoli inoltre riempiono il mondo di grida, di gioia e non dei buati della guerra, fatta da gente cattiva che fa male e distrugge, uccidendo anche loro e i bambini un'ingiustizia, una crudeltà. Stiamo vivendo, dice il Santo Padre, una guerra che toglie la pace, dobbiamo lavorare per la pace. Lavorare per la pace è una frase che Francesco ripete ad ogni istante e lo chiede sempre a voce bassa. Dal generale poi le domande si passano sul personale, ma il Papa cosa fa tutto il giorno? Mi alzo presto, prego e lavoro. La risposta, lavorare è salute, il lavoro dà dignità. E ancora, il Papa si arrabbia e quando si arrabbia come fa a calmarsi? Tante domande che testimoniano la volontà del Santo Padre. La rabbia lasciamola per i cani, dice, e noi cerchiamo di essere sempre miti. E veniamo alla cronaca. Un delitto ripreso dalle telecamere, quello di Via Roma a Palermo. I carabinieri, grazie alle immagini, hanno individuato il presunto responsabile. Si tratta di un tunisino di 32 anni. Il servizio. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Badr Bougemay, il cameriere algerino di 41 anni, ucciso con tre colpi di pistola nella notte tra venerdì e sabato scorsi in Via Roma a Palermo. Fermato un uomo di origini tunisine, sospettato del delitto, anche lui impiegato, in un locale nella zona di Via Emerico Amari, in prossimità del luogo di lavoro della vittima. Sarebbero state le immagini delle telecamere di videosorveglianza in Via Roma a dare un'accelerazione alle indagini. Sarebbe un revolver, l'arma utilizzata per l'omicidio. Sconvolti i datori di lavoro della vittima, che abbiamo incontrato stamane nel loro ristorante a Petit in Via Emerico Amari. Era uno di famiglia, hanno affermato. Bisognerebbe fare una statua. Parole dette di un fiato, segnate da un'evidente commozione. La vittima lascia due bambini, rispettivamente di otto mesi e quattro anni. L'uomo aveva trovato da anni a Palermo una stabilità lavorativa e familiare. Era sposato con una donna di origini tunisine. Le indagini adesso dovranno chiarire il movente che avrebbe portato il presunto assassino a fare fuoco su un uomo che in città verrà ricordato per i suoi modi gentili e il suo sorriso. IOT immatricolati all'estero, scoperta dalla Guardia di Finanza di Trapani, una evasione di 18 milioni di euro. Arturo Cantella. Controlli della Guardia di Finanza di Trapani e Palermo relativamente a delle imbarcazioni di lusso, veri e propri IOT immatricolati all'estero per sfuggire ai controlli valutati un'evasione di circa 18 milioni di euro. Sempre più di portisti italiani smettono la bandiera nazionale delle loro imbarcazioni per immatricolarle presso i registri navali di altri paesi con fiscalità agevolata. E questo è il dato che emerge da un servizio condotto dai finanzieri della sezione operativa navale di Trapani nell'ambito dei controlli di Polizia del Mare. Effettuati nella fascia costiera tra Marsala, Castellammare del Golfo, la Isola e Ega di Inclusa, in particolare con una mirata operazione a tutela dell'economia legale e al contrasto delle attività illecite, le fiamme gialle hanno sottoposto al vaglio la posizione di decine di contribuenti proprietari di imbarcazioni da di porto che alla ricerca di una burocrazia più snella e nel vano tentativo di occultare il proprio bene al fisco le avevano cancellati dai registri navali italiani, immatricolandole all'estero, ottenendo la prescritta compilazione del quadro RW nella propria dichiarazione dei redditi. Questo dilagante fenomeno costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico, perché l'evasione distorce la concorrenza e l'allocazione delle risorse mine il rapporto di fiducia tra i cittadini e lo Stato, penalizzando l'equità, sottraendo spazi di intervento a favore delle fasce sociali più deboli. Per tale ragione il decreto legge 167-90 ha imposto al contribuente nazionale residente in Italia di dichiarare nell'apposito quadro RW della dichiarazione dei redditi la proprietà o la disponibilità dei beni detenuti all'estero, tra i quali rientrano anche i natanti e le imbarcazioni da di porto suscettibili di produrre il reddito in Italia. La trasversalità dell'attività dell'indagine condotta dalla Guardia Gialle, dalle fiamme gialle basata sull'approfondimento dei controlli effettuati in mare, sul controllo incrociato con le banche dati e sulle acquisizioni dei documenti, ha consentito di far emergere capitale occultati al fisco italiano per un valore superiore a 18 milioni di euro, tra i quali i responsabili saranno sanzionati con importi compresi tra i 500 mila e i 2 milioni e mezzo di euro. In questo caso l'azione svolta dai militari del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Palermo, oltre a essere espressione dell'ormai consolidato ruolo di pulizia del mare, palesa l'instangabile impegno del corpo nel contrasto all'attività illecite e a diretta tutela dell'economia legale, contrastare quindi l'evasione fiscale vuol dire contribuire alle prospettive di riprese e di lelancio dell'economia del Paese, favorendo una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i vari cittadini. Ancora cronaca, un commesso in servizio alla Procura della Repubblica di Palermo arrestato per favoreggiamento. Favoreggiamento continuato ed aggravato. Un commesso giudiziario in servizio alla Procura di Palermo, accusato di essere una talpa al servizio della criminalità, è stato arrestato dalla polizia. È un addetto al trasporto dei fascicoli dalle segreterie dei PM agli altri uffici del Tribunale. Secondo l'accusa avrebbe illegittimamente consultato i procedimenti, fotografato e diffuso atti coperti dal segreto portato all'esterno fascicoli, informato i diretti interessati su indagini in corso su intercettazioni avviate, arricando un grave danno a diverse inchieste. La notizia è stata diffusa in una nota dal procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia. Dalle indagini, delegate dalla Direzione Distettuale Antimafia di Palermo, alla Squadra Mobile della Questura, alla sezione di Polizia Giudiziaria e della Polizia di Stato, il commesso, proveniente al bacino dei precari regionali, appare essere divenuto il punto di riferimento per i diversi soggetti del circuito criminale palermitano che intendono verificare l'esistenza e lo stato di indagini al loro carico. L'operazione moderna, comprensiva di diverse perquisizioni domiciliari, resasi urgente e necessaria per la tutela di numerose e importanti investigazioni, conclude la nota il procuratore De Lucia, fa parte di una più ampia attività, da sempre prioritaria per la procura di Palermo, volta a salvaguardare la riservatezza delle delicatissime indagini trattate, quindi alla individuazione di talpe che ciclicamente cercano di intervenire nella corretta amministrazione della giustizia. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, a tra poco. Campiamo argomento, giornata di sciopero dei marittimi di Caronte e turiste e corse ridotte sullo stretto di Messina, pesanti disagi per i viaggiatori. Uno sciopero basato sulla richiesta di equità salariale fra i lavoratori, un gruppo al cui interno rigono diversi livelli di contrattazione integrativa, quindi con evidenti discriminazioni salariali fra i lavoratori. Si cerca di equiparare, anche visto il costo della vita e i problemi economici che stanno sopportando le famiglie in questo panorama nazionale economico disastroso, si cerca di trovare una intesa con il gruppo Caronte e turiste affinché tutti i lavoratori riescano a fare un passo avanti economicamente e anche l'applicazione all'interno del gruppo dell'unico contratto confidar ma anche per il personale di terra. È un problema che riguarda lo stretto in generale, oggi sciopero dal gruppo Caronte e turiste ma il problema del costo del lavoro e del mercato basato sul ribasso del costo del lavoro è un problema che il sindacato unitariamente sta affrontando e dovrà affrontare anche nel futuro. Le ragioni di questa protesta di oggi sono molto semplici, in Caronte e turiste vigie vincono tanti regimi contrattuali che creano spereguazione per i lavoratori dell'impianto, le nostre richieste sono equità salariale appunto come racconta benissimo lo striscione alle nostre spalle e soprattutto anche per il personale di bordo. Per il personale di terra invece noi rivendichiamo l'applicazione di quello che a nostro avviso è il giusto contratto perché in questo momento stanno lavorando con il contratto multiservizi e in realtà dovrebbero lavorare col contratto confidar ma perché appunto riteniamo che loro non svolgono servizi accessori ma bensì servizi funzionali all'esercizio della navigazione. La sciopero sta andando bene, le percentuali di attesione sono alte e speriamo appunto con questa riuscita di questo sciopero di sensibilizzare l'azienda alle nostre richieste. La ragione di questa protesta è di armonizzare i contratti all'interno di Caronte e turiste dove ci sono varie tipologie di lavoratori di serie A, di serie B, di serie C quindi si sta tentando di armonizzare il più possibile e eliminare e assottigliare il gap strutturale ed economico che è presente in Caronte e turiste. Ci auguriamo che dopo la prova muscolare dello sciopero si riattivano le trattative soprattutto nel tavolo prefettizio che ha dato i primi risultati. La società non intende equiparare e cioè dare un unico contratto integrativo a tutti i suoi dipendenti. Ciò significa che per noi è impensabile che ci siano dei lavoratori che abbiano il 100% di integrativo. Altri che abbiano il 40% e altri dal 2005 che hanno zero contratto integrativo. Ci sono lavoratori che non usufruiscono di buoni pasto quindi una diciamo una carenza di diritti di una violazione dei diritti alla quale tutti unitariamente stiamo dicendo no. 46esima edizione del premio Telamone i premiati per il 2023. Arturo Cantella Sabato 25 novembre alle ore 16.30 si svolgerà la 46esima edizione del premio Telamone nella cornice della Sala Zeus del Museo archeologico Pietro Grifo di Agrigento. La statuetta di Telamone è assegnata annualmente a personalità siciliane che si sono distinte nelle diverse professioni per il loro impegno etico, culturale e sociale dando prova di grande levatura e rendendo orgoglioso la Sicilia e il paese. Una statuetta che riproduce la colonna del Tempio di Zeus Olimpio, dell'antica Acrega, Sala Nobiltà, del messaggio di forza e di impegno per il bene della collettività nello spirito di una responsabilità individuale che deve condurre a benefici comuni. I premiati di questa 46esima edizione curata dal Cepasa del professor Paolo Cilona sono il giornalista Rai e apprezzato scrittore Roberto Alaimo, l'eminente oncologo Fabio Calabro, direttore dell'Oncologia Medica dell'Istituto Nazionale i Tumori Regina Elena di Roma, il magistrato Carlo Caponcello, procuratore generale della Corte d'Appello di Messina, Salvatore Fazzino, artigiano, innovativo e fondatore del brand SILA, il gruppo Mancuso, leader nel panorama internazionale per la produzione ittica e brand di eccellenza nella produzione dei gelati. Giuseppe Ernota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, l'imprenditrice Yolanda Riolo, nominata cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica, la nota scrittrice Cristina Cassa Scalia, regina del giallo, con le indagini del vicequestore Vanina Guarrasi e Valio Valenti, prefetto della Repubblica e già capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Nel corso di questa edizione verrà assegnato anche il premio Telamone per la pace e la solidarietà, attivo dal 1981 a Dombino Vitrano, coordinatore responsabile della Comunità Missione di Speranza e Carità di Palermo, cofondata insieme al compianto fratello Biancio Conte, il premio Telamone, dichiarato il fondatore Paolo Cilona, presidente del Centro Programmazione Nazionale Sociale di Agrigento, e l'appuntamento annuale che ha insegnito nei più svariati campi moltissime eccellenze siciliane, celebrando la cultura dell'impegno e il valore dell'esempio per costruire una società migliore. Nel corso delle edizioni precedenti sono state premiate personalità di altissimo spessore, come Leonardo Sciaccia, Diego Paneta, Letizia Battaglia, Gaetano Silvestri, Giuseppe Tornatore, Andrea Camilleri, Ignazio Buttitta, Dacia Maraini, Pietro Ingrao, Gaspari Ambrosini, Stefania Auci, Nicola Fasconaro e altre celebrità che hanno reso orgogliosa la Sicilia, dando massima espressione culturale e professionale. E adesso un servizio sulla visita del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Albania. Lello Casesa. L'annuncio del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l'accordo con il capo del governo albanese ha fatto notizie in tutto il mondo. La visita costana di Giorgia Meloni in Albania con i pochissimi giorni di fede era solamente il pretesto di un lavoro congiunto tra i due Paesi, che è sfociato in queste ore con l'accordo sui migranti. Il protocollo tra i due Paesi prevede infatti la realizzazione entro la primavera prossima di due centri per il rimpatto che potranno ospitare fino a un massimo di 3.000 persone cosiddette irregolari per l'Italia, con un flusso annuale quantificato in 36.000-39.000 persone. Si tratta nello specifico di un'intesa che ufficializza una strategia che si prefigge di dissuadere le partenze al fine di ridurre notevolmente le presenze sul suolo italiano. Il testo non si applica agli immigrati che giungono sulle coste e sul territorio italiano, ma a quelli salvati nel Mediterraneo da navi italiane, come quelle di marine e finanze, non quelle dell'ONG. Inoltre, non varrà per minori donne in gravidanza e soggetti vulnerabili. L'opposizione attacca nel provvedimento, con in testa il PD, con il responsabile degli esteri provenzano, che afferma Meloni rinuncia in Europa a cambiare le regole di Dublino per non turbare gli amici nazionalisti e prosegue sugli accordi indegni che nemmeno funzionano come la Tunisia. Quando abbiamo iniziato a discutere, sottolinea il Presidente del Consiglio, siamo partiti dall'idea che l'immigrazione illegale di massa era un fenomeno che nessuno Stato d'Europa può affrontare da solo e la collaborazione fra Stati è fondamentale. La Premier ha messo, oltre agli investimenti e un probabile aiuto monetario, l'impegno dell'Italia per favorire l'ingresso di Tirana nell'Unione Europea, visto che ha da quasi dieci anni lo status di paese candidato. Il Primo Ministro d'Albania Edirama torna qui a Roma dopo poche settimane dalla sua ultima visita, non a caso. Sono molto molto contenta di essere qui con lui oggi per annunciare un importantissimo protocollo di intesa tra Italia e Albania in materia di gestione dei flussi migratori. È un accordo che arricchisce un'amicizia storica, come voi sapete, una cooperazione profonda tra le nostre due nazioni. Il nostro è un parternariato strategico che si sviluppa attraverso ovviamente rapporti commerciali di assoluta eccellenza. L'Italia è il primo partner commerciale dell'Albania e il nostro interscambio vale circa il 20% del prodotto interno lordo albanese, ma anche attraverso scambi tra le nostre comunità presenti in Italia e in Albania, intensi rapporti culturali e sociali, una strettissima collaborazione che già esiste nella lotta a tutte le forme di legalità e che vede una importante presenza in Albania di forze dell'ordine di magistrati italiani. L'accordo che noi si chiamiamo oggi arricchisce questa cooperazione di un ulteriore tassello e quando noi abbiamo cominciato a discutere di questo qualche mese fa con il primo ministro Rama siamo partiti da alcune considerazioni di fondo che condividiamo, che voi conoscete bene, e cioè che l'immigrazione illegale di massa è un fenomeno che gli stati membri dell'Unione europea non possono affrontare da soli e che da questo punto di vista la collaborazione tra stati UE e stati per ora, extra UE, può essere decisiva. Per questo ci siamo detti che una cosa bella da fare sarebbe stato rafforzare e rilanciare questa cooperazione. Allora noi abbiamo lavorato insieme ad un accordo che rafforza proprio questo genere di cooperazione e che si pone sostanzialmente tre obiettivi e cioè contrastare il traffico di esseri umani, prevenire i flussi migratori irregolari e accogliere solamente chi ha davvero diritto alla protezione internazionale. In che cosa consiste l'accordo? L'accordo consiste nel fatto che l'Albania darà la possibilità all'Italia di utilizzare alcune aree del territorio albanese nelle quali l'Italia potrà realizzare a proprie spese sotto la propria giurisdizione due strutture dove allestire centri per la gestione dei migranti illegali. Queste strutture potranno accogliere inizialmente fino a 3.000 persone che rimarranno in questi centri ovviamente il tempo necessario a poter velocemente espletare le procedure per la trattazione delle domande di asilo ed eventualmente ovviamente ai fini del rimpatrio. Chiaramente si tratta di massimo 3.000 persone contestuali ma è chiaro che utilizzando le procedure accelerate che consentono grazie a questo governo di processare le richieste in 28 giorni io intendo che con questo progetto a regime questi numeri possano essere considerati come mensili e che quindi il flusso complessivo annuale possa arrivare fino a 36.000 persone che si alternano. Voglio anche dire che questo accordo non riguarda e questa possibilità non riguarda però i minori, non riguarda le donne in gravidanza, non riguarda gli altri soggetti vulnerabili. La giurisdizione come dicevo all'interno di questi centri sarà italiana nel porto di Shenzhen l'Italia si occuperà delle procedure di sbarco e di identificazione qui realizzerà un centro di prima accoglienza dove operare una prima attività di screening mentre in un'altra area più interna si realizzerà una seconda struttura. Ad Alcamo nel Traparese il 10 novembre verrà affrontata la grave tematica del femminicidio. Vediamo. La cronaca purtroppo ci propone quotidianamente fatti nuovi, sempre più efferati. Quello che credo sia un rischio oggi è che l'esposizione mediatica di tutti questi casi possa paradossalmente banalizzare un fenomeno che invece è estremamente grave, è diventato un'emergenza sociale ed è un fenomeno rispetto al quale se la legge appresta numerosi ed efficaci rimedi è un tema nel quale deve incidere la cultura. Noi crediamo molto al di là del nostro ruolo professionale di magistrati, avvocati o operatori del diritto in generale in questa cultura da diffondere nelle scuole, apprendere che le compagne, le amiche, le fidanzatine vanno rispettate, che la donna è oggetto di grande rispetto e per questo motivo quando ce n'è l'occasione come questa volta c'è stata offerta e proposta dall'associazione Il Golfo non ci sottraiamo mai a questo confronto con i ragazzi, con gli studenti. La parola, il linguaggio, la comunicazione sono strumenti fondamentali. Nella mia attività professionale che purtroppo ormai è lunghetta non ho mai assistito a casi in cui sia stato l'uomo vittima di violenza, quantomeno di quella forma di violenza che è tipicamente maschile e che vede la donna come vittima, quindi la violenza fisica, la violenza sessuale, la violenza economica. Il ricatto economico è quello che ha costretto le donne a sottostare a tutta una serie di altre forme di violenza nel tempo. Mi sono occupata già in precedenza di questo argomento molto importante per la nostra società. Il 22 novembre del 2021, gruppo consigliare centrali per la Sicilia, a cui appartengo, ho presentato una mozione di indirizzo sull'educazione finanziaria, quale strumento per la prevenzione e il contrasto contro la violenza sulle donne. Questa mozione impegnava il sindaco e la giunta a mettere in campo le politiche e le risorse per implementare progetti e percorsi di educazione finanziaria per le donne vittime di violenza. La vostra emittente ci consente di comunicare e di divulgare anche delle informazioni. Dal 2002 vige la legge sul patrocinio a spese dello Stato anche in questa materia ed è una legge che io trovo fondamentale, importantissima perché ha consentito alle donne di uscire da queste realtà, di avere un avvocato pagato dallo Stato per poter separarsi, per poter ribellarsi, reagire a delle forme di violenza domestica che altrimenti avrebbero dovuto sopportare fino alla fine dei loro giorni. Da questo input, da questa mozione nasce l'idea dell'associazione Il Golfo di contattarmi per fare parte dell'organizzazione dell'incontro di battito. Se noi su 100-200 studenti che interverranno, e credo che saranno tanti da quello che ho capito perché l'associazione Il Golfo si è molto prodigata per questo e gliene siamo grati, almeno uno verrà colpito dal nostro messaggio, avremo raggiunto un obiettivo importante. L'organizzazione è stato un percorso molto facile in quanto l'argomento è molto sentito dalla nostra società, è un argomento attuale, purtroppo succedono casi di violenza giornalmente in tutta Italia, è un incontro dibattito soprattutto rivolto ai giovani, rivolto agli istituti scolastici che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Siamo allo sport, calcio in Serie D, il Licata vince in rimonta contro il Portici. Vediamo gli highlights a cura di WeSport. Dallo stadio Sara Geno di Ravanusa stanno per fare il loro ingresso in campo, Licata e Portici, il Licata divisa tutta bianca con i dettagli giallo-blu in Total Red, il Portici che come detto arriva questa gara con tre punti in meno, sebbene domenica scorsa abbia riposato, quindi abbiamo questa novità della Mezzia che ha ulteriormente danneggiato un campionato che si accomoda in panchina. inizia intanto Licata, Portici. Siamo un po' infastiditi dal solito dalle bandiere su questo spicchio di campo, il cross in mezzo Giannone di testa da ottima posizione di De Luca e l'infortunio di Izzo. Adesso So che punta lanza, So la mette su sinistro, buon pallone filtrante, Marcucci impegna Valenti. Il cross in mezzo e il vantaggio del Portici ha segnato Pierluigi Riccio con un colpo di testa sul primo palo lasciato completamente solo, nulla ha potuto Valenti se non osservare la palla in fondo al sacco. Dalla difesa recupera comunque Minacori, ma il possesso è ancora dell'Icata. Minacori filtrante per Bari, Bari l'attacco, Minacori, Minacori in aria, non c'è nulla sull'intervento a sandwich di due avversari. Va con le mani Garau, anzi Giannone direttamente per Garau, il cross in mezzo, Bari! La mette lì, la blocca, ma era fuori gioco. Il pedalino la riesce a recuperare, si va da Murgia, Murgia nel traffico, riesce a stare in su e poi c'è il fallo dal limite. Siamo nella lunetta, proprio al di fuori dell'area piccola, due minuti di recupero intanto. La rincorsa, il tiro! Murgia l'ha messa all'incrocio, un arcobaleno che si spegne all'incrocio dei pali. Minuto 47, cambia il risultato, Ligata 1, Partici 1, la ripresa, Alessio Murgia con un capolavoro balistico. E questo è oro per il Ligata, perché il primo tempo era ormai agli scoccioli. Ed ecco che ricomincia, Ligata, Portici sull'1 a 1, Murgia. Rotulo, rotulo la sterzata, pallone a sinistra per Lanza, altro cross, Bari! Tutto solo, sbaglia, di testa, era da praticamente piazzare all'angolo, ma Bari ha sbagliato. Un gol praticamente fatto, Cappello fa buona guardia, Curro, Curro, pallone per Saito, 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 Saito! È l'uomo della provvidenza e porta Ligata in vantaggio, Ligata in vantaggio, Ligata è in vantaggio. La numero 19 a disegnare il numero 2 sul tabellino, perché cambia il risultato al minuto 24 della ripresa. Ligata 2, Portici 1, Leonardo Saito, l'uomo della provvidenza. Saito non ci arriva, sempre Portici, il tiro, Valenti! Poi pugni una parata non semplice. Maione di prima, ancora Zanoni, attenzione, vince una carambola con Cappello e poi un passaggio praticamente a Valenti. Turchet ai 35 metri, il sinistro, Valenti, era centrale l'andata con la mano a Turchet, va a lancio lungo a cercare la spizzata di Maione. Poi Pino, attenzione, una carambola, Valenti salva, perché era stato scavalcato, non è finita, ancora di guida è costretto a uscire dall'aria, palla che filtra. Lo stopperrato di selvaggio, ma cosa abbiamo visto? Valenti, che è stato scavalcato da una carambola. Caruso l'appoggia, ma non c'è nessuno. E c'è il triplice mischio che muove Rozzanaceno. Il Licata, ancora una volta, il rimonta, vince di misura contro il Portici, 2 a 1, vantaggio dei Campani al minuto 11 con Pierluigi Riccio. Poi il pareggio alla scadere del primo tempo su una bellissima punizione di Murgia e il sorpasso. La freccia, ancora una volta, ad opera di Leonardo. Saito, Licata che in vista del riposo di domenica prossima sale a quota 21. E con lo sport si conclude il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito. Arrivederci. Ciao! Uscire dalla violenza? Si può! Chiama telefono aiuto 0922 22 922 o 800 961 931 Per la tua pubblicità su TVA chiama il numero 337 96 55 60